La guerra civile spagnola è quel conflitto avvenuto tra il 1936 e il 1939 che ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per le potenze dell'epoca, nell'ambito sociale, militare e politico. In essa era archiuso un forte astio tra una sfera conservatrice e una rivoluzionaria, un elitarista e una popolare. Non dobbiamo pensare però che a scontrarsi siano stati solo due schieramenti. È più corretto pensare alla Spagna come una grande arena nella quale, con mezzi leciti o meno, si sono scontrate numerose ideologie, dai fascisti ai comunisti, passando per i democratici e gli anarchici. E, in aggiunta o in supporto a questa o quella parte, c'erano anche paesi come l'Inghilterra, la Francia, l'Unione Sovietica, l'Italia e la Germania, i quali hanno elaborato ciò che avevano appreso in questa guerra e lo hanno applicato nella vicina seconda guerra mondiale. Oggi però non voglio parlare della guerra civile spagnola in sé, ma di uno degli eventi più celebri di essa, ovvero la battaglia di Guadalajara. Per comprenderne meglio le dinamiche, dobbiamo fare un passo indietro e andare a capire il contesto generale. Questo scontro era infatti emerso a casa del fallimento da parte dei franchisti di sfondare le linee nemiche durante la battaglia del Harama, avvenuta nel febbraio del 1937. Era quindi necessaria una nuova offensiva che trovava nella provincia di Guadalajara un punto perfetto, anche perché avrebbe portato a un accerchiamento a nord-est della capitale repubblicana, Madrid. Ultimo aspetto, non meno importante, era la base aerea di Barajas, importante obiettivo strategico. A guidare l'attacco sarebbero stati i 30.000 soldati italiani, divisi in quattro divisioni, supportati da 180 pezzi di artiglieria mobile, 250 carri leggeri o tanchette L3 e 62 aerei, principalmente caccia e aerei da ricognizione, comandati dal generale Mario Roatta, al quale si affiancavano 20.000 legionari del generale Moscardò, celebre per aver resistito durante l'assedio di Alcazar. Lunedì 8 marzo 1937, nonostante le condizioni meteo avverse e la presenza della sola aviazione nemica, gli italiani attaccarono avanzando lentamente per poi essere fermati il 9 dall'undicesima divisione repubblicana. Lo scontro si fermò per due giorni, nei quali gli schieramenti si riposizionarono e riorganizzarono per poi assistere allo sfondamento repubblicano, avvenuto il 12 grazie ai carri leggeri BT-5 e T-26 del generale sovietico Dmitry Pavlov e delle azioni dei bombardieri Ant-40. La sua azione proseguì fino al 14, quando, senza più il supporto della fanteria, dovette ripiegare interrompendo l'avanzata. Roatta, una volta frenato l'attacco, si limitò a una riorganizzazione del fronte molto superficiale e incolpando lui Orgà per non aver attaccato nel settore del Harama, ignorando che in esso erano avvenuti vari attacchi, ma dall'esito infruttuoso. Sfruttando l'assenza dello stesso Roatta, trasferitosi a Salamanca, chiedendolo in piazza di Orgà, successivamente avvenuto con Andrei Salichette, i repubblicani attaccarono il 18 su tutto il fronte, con una manovra tenaglia che avrebbe dovuto cerchiare le forze italiane. Esse però si ritirarono andando in rotta per una ventina di chilometri e decretando la loro sconfitta. Gli italiani riuscirono a fermare l'impeto nemico solo entro il 23, riassestando il fronte e avvicinandosi alle truppe di Moscardò. L'esito della battaglia era stato un numero simile tra morti e feriti e una sproporzione a danni dei franchisti in termini dei prigionieri. Dal punto di vista tattico, la sconfitta non fu troppo tragica. Sembrava infatti una riproposizione della battaglia del Harama e lo stesso Franco non ne fu troppo dispiaciuto, anche perché, dal punto di vista politico, sembrava confermare le idee del futuro dittatore sul condurre una guerra più lenta, in antitesi ai comandi italiani. La propaganda in patria e all'estero fu invece spietata. L'Italia fascista, che aveva idealizzato e ideolatrato il mito della guerra, veniva battuta da dei volontari, per giunta antifascisti e italiani. Nonostante le successive vittorie, Guadalajara rimase una macchia indelebile per l'Italia in quella guerra. L'evento sottolineò quanto i generali italiani in primis, completamente impreparati a una guerra che vedeva la perfetta coordinazione tra divisioni, mezzi e aviazione come l'unica via per la vittoria, e l'Italia fascista in secundis, spavalda per i record che aveva ottenuto negli anni trenta, ma industrialmente, economicamente e tecnologicamente arretrata, non potessero partecipare appieno a un conflitto molto più ampio, che avrebbe richiesto l'impiego di un esercito ben equipaggiato, con una mentalità di comando molto creativa, reparti meccanizzati e corazzati, pronti ad ogni esigenza tattica e logistica, un'aviazione adatta al ruolo richiesto e al passo con i tempi. Osservando infine il tutto con uno sguardo ampio, vediamo in Guadalajara quasi un'anticipazione di quella che sarà nel biennio 43-45 la guerra civile tra italiani fascisti e antifascisti, i primi mossi da un'ideologia prossima al declino o dall'obbligo militare, i secondi invece da un'idea diversa di nazione, di libertà e di appartenenza.